Fermati, adesso basta Ti prego, mettiti in salvo almeno tu Corri 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 sono stata io resisti non morire ti prego non lasciarmi no c'è ancora una speranza Link si può salvare principessa principessa state bene? ho una missione importante da affidarvi portate questo ragazzo al sacrario della rinascita correte prima che sia prima che sia troppo tardi il nostro canale su